Oggi si inaugura qua in Via Bodio questo Marquez Solidale, di cosa si tratta? Marquez Solidale è un progetto che come JTA Italia siamo orgogliosi di vedere nascere, è un progetto in cui crediamo molto, che è la risposta concreta al nostro impegno nelle comunità in cui operiamo. Come JTA Italia collaboriamo con Fondazione Progetto Alca da oltre dieci anni con una pluralità di progetti che ci ha visto impegnati dalla semplice e poi semplice e riduttivo gestione dei pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà fino ai food truck e adesso vediamo anche la nascita del Marquez Solidale, quindi di un progetto che vede attivamente la cittadinanza parte del rientro in società. Per noi di JTA Italia infatti la sostenibilità è una visione a 360 gradi, per costruire un futuro migliore lavoriamo nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica in modo da davvero impegnarci nelle comunità in cui operiamo e Arca mette concretamente a terra questo nostro impegno. Avete già altri progetti per il futuro? Con Arca non ci fermiamo mai perché l'aiuto non si ferma mai e perché per noi di JTA l'Italia è un paese importante. Noi siamo qua dal 2000, quindi non da moltissimi anni, siamo cresciuti molto, investiamo in Italia, crediamo in Italia, investiamo nel tessuto agricolo italiano, investiamo nelle comunità e con Arca investiamo nella società, nella creazione proprio di una società migliore e più propensa ad un futuro migliore. Avremo altri progetti che piano piano, senza spoilerare nulla, perché ovviamente se vogliamo anche garantire un po' di festa quando facciamo le inaugurazioni, sono progetti che noi continuiamo a finanziare. Quello che ci piace dire è che noi costruiamo questi progetti e li portiamo avanti. L'anno scorso abbiamo inaugurato dei food truck, ma il nostro aiuto non è stata solo l'inaugurazione dei food truck, abbiamo continuato a garantire che questi food truck venissero mantenuti con un refill che è continuato quest'anno e continuerà anche l'anno prossimo. Costruiamo qualcosa ma aiutiamo che questo qualcosa vada avanti nel tempo.